BIMIT LA BLINDING Ovvero la mimetica d'oro per appunto il WMP Come state vedendo adesso dal gameplay io sto facendo appunto una partita che mi pare era dominio Avevo praticamente il WMP con estrazione rapida e appunto calcio e calcio regolabile mi pare Non lo so fuoco rapido ora che scusate E insomma non mi trovo su dominio Chiaramente ho fatto le mie 5-6 dett consecutive raga prima di giocare Perché lo sapete che fare insomma le kill prima insomma senza morire per me è un po' complicato E comunque sia prima di insomma fare questa partita avevo praticamente insomma sbloccato tutte le mimetiche Mi mancava solamente la mimetica camaleonte che consisteva nel praticamente fare 5 kill consecutive senza morire E poi ragazzi dopo aver sbloccato la mimetica camaleonte automaticamente mi sbloccavo la mimetica d'oro Qui come vedete ho ammazzato praticamente due nemici senza morire mi pare Che prima sono morto poi ho ammazzato un altro E non mi ricordo adesso raga quale frame insomma del gameplay Però appunto ad un certo punto mi sono ritrovato a fare un 5 kill consecutive Ed è stato veramente fantastico qui anche sono morto come state vedendo E nulla insomma quando ho registrato questo mi pare che c'erano i punti doppi Quindi diciamo che ho utilizzato la modalità dominio per fare qualche punto in più nel senso E aumentare anche di livello sia per la serie Road to Master Prestige Insomma Road to Master Prestige E sia per insomma per me ecco nel senso Comunque qui ho fatto un altro kill come state vedendo Adesso insomma io sto parlando in live Guardo il commento di magari per ricordarmi Come punti di abilità mi pare raga insomma quelle cose rosse blu e verde Avevo non mi ricordo mi pare nessuno raga Mi pare avevo Prestigiatore e Tracciante e Percezione Ambientale ecco Non avevo la spericolato perché comunque si non è che serve a tanto Nel senso cioè è buono si però io diciamo che mi concentro più sull'ammazzare il giocatore Diciamo che Percezione Ambientale a me fa molto più che bene Come vedete qui sono morto per il momento stiamo vincendo 37 a 28 Adesso mi ritrovo mi pare ecco qui una fottuta una fottuta mina di prossimità mi ha ammazzato Che neanche mai andrò accorto come te sto facendo un botteggio di 4-6 Però comunque sia me la sto cammata abbastanza bene anche perché con il WMP ci ho fatto molte molte partite Quindi so più o meno come utilizzarlo Qui come vedete c'era un difensore ok qui ho fatto la doppia Praticamente c'erano due praticamente giocatori che volevano insomma prendere B Però io gliel'ho impedito Poi un rumeno con il suo raso che mi ha ammazzato E insomma mi sono ritrovato a ricomparire ecco E mi hanno una specie mi pare che mi hanno teso una specie di trappola su C Insomma ci facevano tipo spawn kill Però bene o male ci siamo riusciti come dire a liberare ecco Qui adesso sto prendendo A con un paio di insomma di miei compagni Chiaramente i miei compagni in questa partita devo dire che erano abbastanza abili Anche perché insomma non facevano mettere O meglio c'era non facevano prendere molti punti alle squadre Nel senso noi facevano catturare molte zone ecco Perché poi appena arrivavamo noi e tac e ce le riprendiamo insomma E nulla poi qua mi sono praticamente ritrovato a uccidere questo qua con un headshot Come vedete c'era anche appunto i doppi punti E mi pare che in questo momento qua raga dovrei fare tipo 5 kg consecutive E qui siamo alla seconda poi dovrebbe esserci uno in fondo a tutta la mappa esatto Come vedete qui raga ho fatto l'ondata di calore Doppia kill e solamente l'ultima a quale appunto ho sbloccato la mimetica oro A fine gameplay appunto vi ho fatto vedere insomma ve l'ho fatta vedere Ecco come vedete c'è l'ultima kill Questo che ci provava con i pugni io l'ho saltato e boom E mimetica oro sbloccata raga insomma Quello ci provava con i pugni probabilmente aveva finito le munizioni Io appunto ne ho approfittato E come vedete insomma mi sono trovato appunto a fare 5 kg consecutive senza morire E appunto ho sbloccato anche la mimetica oro appunto anche con la camaleonda Che consisteva appunto nel fare 5 kg consecutive senza morire appunto 5 volte Avevo fatto 4 volte prima di registrare mi mancava solamente l'ultima Però non mi sono andato a fare il commentario visto che erano appunto le 2 di notte E poi avevano schierato un po' di tutto raga C'era Cerberus insomma un po' di tutto Poi come vedete un bastardo con l'arco praticamente mi ha affermato la mia serie di uccisioni Però sti cazzi perché comunque sia la mimetica oro insomma l'avevo recuperata insomma Cioè l'avevo presa ecco E poi non so tutto in un dato mi sono arrivato praticamente a giocare bene Facevo kill su kill insomma facevo 2 massimo 3 kill senza morire e poi mi ammazzavano Però come vedete raga con il WMP c'ho veramente molta molta esperienza E' la prima volta che raga mi trovo a fare un commentary non un gameplay live su code Quindi ditemi cosa ne... cioè ditemi secondo voi se... Insomma sono bravo a fare questi commenti appunto in live Lì come vedete raga sul C c'era praticamente... c'erano tutti quanti Io praticamente potevo praticamente... ho detto 5 volte praticamente lol Potevo praticamente fare una spawn kill però mi sono ritrovato con un dato di calore Ehm... quale appunto davanti a me c'è andato solamente uno Quindi ho suonato quello con un dato di calore e l'ho ammazzato Volevo praticamente fare una specie appunto di spawn kill Magari cercando di prendere anche qualche streak in più come ad esempio l'Wav o il Qwav ecco Però comunque sia la partita poi mi pare che è terminata insomma il dominio Pare che è terminata 200 a 180 per noi nel senso Come vedete qui adesso mi trovo in prima posizione nella classifica insomma della mia squadra Continuo a morire chiaramente come un coglione E l'ultima kill fortunatamente non sono stato io ed abbiamo perso il primo round Poi raga non mi ricordo se nel secondo round magari ve lo metterò velocizzato Nel secondo round appunto se abbiamo vinto noi adesso non mi ricordo precisamente Però l'importante ragazzi tenevo a fare questo video insomma questo commentary per dirvi che appunto Ho sbloccato la mimetica oro per il WMP ed è veramente veramente fantastica insomma Ho fatto un punteggio di 16-15 mi pare raga comunque sia un ratio a 1-10 se non erro Qui adesso sta partendo il secondo round magari ve lo metto velocizzato appunto mentre vi sto parlando E comunque sia raga nulla nel frattempo che mentre voi state venendo Eh sì avevo 16-15 avevo ragione quindi in realtà è a 1-10 mi pare E qui non mi ricordo se poi ho continuato a fare serie di uccisioni senza morire mi pare di no raga Eh infatti perché avevano messo praticamente la torretta rinforzata E io ho detto no se c'è la torretta rinforzata passo da dietro e tac e me nicculo tutti Loro praticamente avevano C come vedete qui c'erano praticamente due distratti Non mi sono non ho fatto tempo insomma a mirarli a ucciderli infatti mi ha ammazzato Ehm colui che insomma era dietro all'altro nemico ecco Ehm però comunque sia devo dire che ho giocato una buona partita insomma Le mie kill l'ho fatte cioè comunque sia Ehm me la cavo abbastanza con il WMP ecco Ehm però dai devo dire che a finale mi sono veramente divertito Quando ho sbloccato la mimetica oro Sono rimasto veramente molto molto contento Adesso raga sto cercando di sbloccare praticamente la mimetica oro per il WMP Qua sto continuando a morire raga perché c'era quello camperato come un maiale Ho detto ok lasciamo stare se c'è quello camperato lì lasciamo proprio stare Ehm insomma vi dicevo che ho avuto appunto Sono rimasto molto molto contento ecco Della dell'aver sbloccato la mimetica oro per il WMP Come sapete raga il WMP è una delle mie auto Eh sì delle mie auto Delle mie armi preferite Ehm 18-19 raga ovviamente faccio sempre tantissime detti Ma ormai sinceramente non riesco a migliorare Ecco io vorrei fare tante kill ma poco è detto E mi sto allenando praticamente di notte ecco Quando praticamente ho già finito di editare tutto I miei dormono io mi metto là a giocare a code E tranquillamente insomma riesco a fare una buona partita Con tante kill però poche detti Solo che quando poi mi capita di registrare in live E cose così insomma Faccio tantissime detti Però comunque sia poi riesco a recuperare appunto Tramite le kill ecco E comunque sia ragazzi direi che per questo video può essere tutto Dai ci daremo a mostrarvi appunto che ho sbloccato la mimetica oro per il WMP Vi lascerò a fine video qualche screen Magari un piccolo spezzone di video ecco Dove appunto Ehm Faccio vedere la mimetica oro per il WMP Qui raga come vedete ho ammazzato questo kick Praticamente non se ne è accorto ecco Cioè lui si era messo lì sopra a camperare Infatti mi ha ammazzato una volta Io me ne sono accorto di dove era E ha detto ok Ora spawno e boom E ti in culo E comunque sia ragazzi dai Per questo video può essere tutto Dai ci daremo a fare questo commentary ecco Per mostrarvi che ho sbloccato appunto la mimetica oro È stata dura raga ma alla fine ce l'ho fatta Ho fatto veramente tantissimi headshot anche perché appunto ho giocato in veterano ecco E insomma in veterano raga come sapete un colpo un morto Quindi è molto più facile fare headshot se comunque se si possiede un meino laser appunto sulla propria arma In questo modo fare headshot è veramente molto molto più semplice Qui come vedete raga sto continuando a fare kill senza morire Poi mi pare che dovrebbe arrivare uno da dietro che mi ha colato Praticamente mi mancavano 50 punti per l'UAB raga non mi ricordo adesso E comunque sia Raga direi che per questo video può essere tutto Eh sì infatti mi mancavano 175 punti E arriva quello con il Gorgon Di sta minchia praticamente mi ammazza Come vedete continuo ad ammazzarmi Finché io praticamente non spawno su C E appunto vado a prendermi C E mi pare che poi la partita appunto ragazzi è finita 200 a 152 raga adesso non mi ricordo E comunque sia Nulla direi appunto che per questo video può essere tutto Adesso raga appunto come ripeto sto cercando di sbloccare le mimetiche La mimetica oro appunto per il VMP Giocando in veterano in TCT veterano E devo dire che su veterano non faccio così scarsi risultati Nel senso faccio 15 kill E che ne so 5-6 death nel senso Quindi gioco veramente molto molto bene su veterano ecco E sto imparando appunto a giocare in veterano E ci sto riuscendo E diciamo che il mio obiettivo adesso è diventare diciamo un pro Ecco in veterano Qui ho praticamente utilizzato l'andata di colore Però senza nessun Nessun riscontro nel senso Cioè ha colpito uno E poi non mi sono accorto dove era Per finire insomma Non mi sono accorto di praticamente dove era E lui ne ha approfittato per ammazzarmi Io chiaramente ho tirato la bestemmia Comunque raga Per questo video può essere tutto Quindi raga io vi ricordo che come al solito In descrizione fate Facebook Instagram e Twitter Io spero che raga che il commento vi sia piaciuto Che vi abbia intrattenuto Ditemi magari nei commenti qualche buona classe per fare il culo Insomma una buona arma secondo voi Un buon specialista insomma Scrivetemi qualcosa nei commenti raga In modo da migliorare E quindi consigliatemi anche qualche modo veloce Per praticamente ottenere le mimetiche Perché raga vorrei praticamente ottenere la Dark Matter Però praticamente devo Per ottenere la Dark Matter appunto Devo insomma sbloccare tutte le mimetiche Per tutte le armi Quindi nel momento raga sto cercando di sbloccare la mimetica oro per il CUDA E ci sto riuscendo dai Senza non molta fatica ecco Qui 2 kg consecutive E poi boom mi hanno nuovamente ammazzato insomma Cioè raga Io faccio sia no 2-3 kg consecutive E poi muoio Cioè è rara quella volta che faccio tipo Che mi vado a fare la streak Almeno l'Uav che appunto è da 5-100 punti Che sarebbero appunto 5 kg E veramente per me è raro raga appunto E comunque QuadraClicks è tutto raga Io spero che il video vi sia piaciuto Quindi se è così è stato Pollicione in su Commentate e condividete E quindi ragazzi Noi ci vediamo domani alle 14.30 Con un nuovo video E quindi nulla Vi lascio al gameplay Che sarà velocizzato appunto Quindi raga QuadraClicks è tutto Io vi saluto e vi ringrazio E niente Noi ci vediamo al prossimo video Bella wagyu Noi ci vediamo all'inizio Grazie a tutti.